programmi per quest'estate ragazzi ho un'idea che ne dite dei day camp o day country camp per unire il meglio della tradizione marchigiana con l'apprendimento dell'inglese stare insieme cucinare dare sfogo alla creatività giochi d'acqua tutto in lingua inglese fantastiche promozioni entro il 30 aprile attività a partire dal 15 giugno see you in the summer programmi estivi per bambini e ragazzi in inglese promossi da the victoria company ricanati e yeezy seguici su facebook